L'intento di questo esercizio è di ottenere una scia su una superficie utilizzando il P-Flow associato a modificatori standard di 3DX Max. Prima di iniziare visioniamo il file. Abbiamo un profilo realizzato con un piano con molte subdivision, il quale è stato modellato all'occorrenza e poi convertito in Edit Poly. Su di esso scorre, rotola, una sfera molto semplice. Per questa simulazione potete utilizzare un sistema di Rigid Body, MaxFX in questo caso specifico, oppure elaborarla con altre soluzioni. L'importante è avere un oggetto che sia a contatto con un altro per far sì che generi una scia. Alla nostra sfera è linkato un Sphere Deflector, presto capirete meglio il perché. Nel nostro caso specifico stiamo simulando una palla di neve che rotola su un pendio. Apriamo il Particle View e costruiamo molto velocemente il nostro Flow. Empty Flow, che a sua volta sarà collegato ad un primo evento con un BERT, con la possibilità di visionare le Particles fin dall'inizio, quindi Start e Stop 0, ed Emount a piacere, nel nostro caso 3000. Ed un Position Object con associato il pendio e la spunta su Lock on Emitter. Inseriamo un Collision SPOV Test al quale ci associamo il nostro deflettore sferico. In questo modo, al passaggio di esso, saranno generate altre Particles, che saranno quelle che ci serviranno proprio per l'effetto desiderato. Quindi andiamo a creare un secondo evento, nel quale avremo uno Speed con valori nulli, o uno Stop operator se volete. Un operatore Shape con forma Sphere 80 Sides, o Cubica a vostra scelta, con una misura non grandissima, nel nostro caso 0,2, va più che bene, ed una variazione è della stessa, 80 e 25. Bene, siamo pronti per poter generare la nostra reale scia. Quindi spostiamoci in viewport e creiamo un oggetto Mesher, che troviamo sotto Create Geometry Compound Object, il quale genererà la nostra scia come geometria, che poi utilizzeremo per generare i solchi sul terreno. Piccolo Types, per creare il Mesher, conviene generarlo tramite Mars Script, quindi spostiamoci nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia e nel quadratino rosa scriviamo Mesher, aperta parentesi, chiusa parentesi. In questo modo sarà creato nel centro degli assi, senza creare troppi problemi in fase di allineamento delle geometrie. Difatti, con le parentesi aperta e chiusa, non andiamo a inserire nessuna posizione, quindi nessun valore di x, y e z. Se per esempio volessimo crearlo in posizioni differenti, potremmo scrivere Mesher, aperta tonda, 0,50 ad esempio, chiusa parentesi ovviamente. Questo è un rapido esempio, ma nulla di che. Torniamo a noi. Ma come facciamo a selezionarlo quando non lo vediamo e soprattutto quando è nel centro degli assi? Molto semplicemente con il Select by Name, H da tastiera o tramite il Sheen Explored, dal menu a discesa Tools, New Sheen Explored, possiamo selezionarlo senza problemi. Del Mesher ho già discusso nel corso Particles 101, quindi non mi dilungherò molto su di esso. Andiamo quindi ad associarlo subito al nostro source e nella label pFlowEvents impostiamo gli eventi che ci interessano, in questo caso dal primo al secondo. Ecco fatto. Ma non cambia nulla, anzi, vediamo che le nostre Particles sono create come geometrie senza nessun effetto sul nostro pendio. Dobbiamo quindi andare ad impostare tale effetto su di essa. Quindi selezioniamo il piano ed aggiungiamo un modificatore Volume Select, impostando i vertici e come oggetto di selezione il nostro Mesher. Piccolo consiglio, cliccate su None e premete H. In questo modo sarà più facile associare gli elementi di nostro interesse. Per migliorare la selezione andiamo a lavorare sulla Soft Selection con parametri a piacere. Con la selezione attiva applichiamo un modificatore Push con valori negativi per generare i solchi ed un Relax per renderlo meno spigoloso. Possiamo applicare un Edit Poly per creare un livello di collasso sull'intero sistema. Come notiamo ora funziona tutto, ma se renderizziamo il nostro effetto non sarà credibile poiché sono visibili le Particles o meglio il Mesher, quindi selezioniamolo e dalle proprietà dell'oggetto rendiamolo non renderizzabile e visualizzabile come Band in Box per migliorare la lavorazione in viewport. Andiamo ad aggiungere del dettaglio alla nostra simulazione. Sicuramente quando la sfera scivola sulla neve genererà degli spruzzi sulla stessa ed una parte rimarrà attaccata alla stessa. Quindi possiamo andare a ricreare tali effetti senza grandissimi problemi. Per prima cosa generiamo gli spruzzi, quindi creiamo un nuovo evento con al suo interno uno Speed che erediterà la posizione in base alle già esistenti particelle, quindi Inert Previous, e con dei valori a piacere. Un Operate Rotation con modalità Random, un Force al quale associamo un Drag ed una Gravity. Ovviamente un Operatore Shape come il precedente, ma con una misura più piccola. Questo evento sarà collegato al precedente tramite uno Spawn che lasciamo con le impostazioni di default. Notiamo che alcune Particles vanno un po' fuori dalla nostra attuale scena, quindi possiamo creare un delimitatore, quindi un gruppo, che cancelli tutto quello che fuoriesce o che vogliamo eliminare. Quindi Group Operator, Split Group Test, collegate ad un evento con un solo Delete Operator. Mentre possiamo far sì che alcune si fermino sulla superficie nevosa, quindi creiamo un semplice Collision Test al quale associeremo un Universal Deflector, che avrà come geometria il nostro pendio. Per far sì che le Particles si fermino, dobbiamo generare un altro evento, con uno Stop ed un Operatore Shape. Bene, la prima parte del nostro Flow è conclusa, adesso ci manca solo da attaccare alcune particelle alla nostra sfera, quindi possiamo, molto semplicemente, clonare il primo evento ed modificarlo in alcune sue parti, come le Mount del Burt e la posizione tramite il Seed. Ovviamente il prossimo evento dovrà contenere delle Action che permettono di fermare le Particles sulla Sphere, quindi creiamoci un evento con un Operator Shape, con forma Sphere 18 Sides e dimensioni a piacere. Per far sì che esse siano generate in base a delle coordinate ben precise, inseriamo un Operatore Shape Mark ed associamo adesso la nostra geometria. Possiamo variare il comportamento di allineamento in base alla velocità, casuale, o delle coordinate X, Y e Z, ma per il nostro esempio Speed va più che bene. Ecco fatto, il nostro esempio è concluso e se volete potete utilizzare sistemi di backing, come il Point Cache, per le geometrie animate, andando ad alleggerire ulteriormente il vostro file di lavoro. Grazie.